amiche di unghie benvenute in questo nuovo video allora queste sono le unghie che il video ho caricato qualche video fa insomma se scorrete cercherò di lasciarvi il link di questo video se lo volete vedere e sono passate le tre settimane stiamo andando a rifilare allora a differenza del video precedente di quando facevo queste unghie dove ho utilizzato il gel e le dual form adesso andiamo a rifilare solamente con agrigel col pennello come facevamo sempre col pennello olio di gomito e pennello e va bene allora sto andando ad abbassare abbastanza il vecchio prodotto vado anche un pochino a stringere i laterali perché lei le vuole abbastanza strette diciamo che queste unghie potrebbero essere adatte per la coffin sì e no perché tra l'altro crescono senza laterali quindi devo sempre andare un pochino ad allargare questi laterali ma poi con la lima li vado a ristringere insomma un'eterna lotta qui fra fra le conoscenze che abbiamo e quello che chiedono loro è un'eterna lotta comunque sto utilizzando la mia punta cilindro di sicurezza grana xc extra course e le punte come vi dico sempre ce le ho io e potete scrivermi in privato ok fatto questo vado a cominciare ho spinto ho spinto le cuticole con lo spingi cuticole e poi vado con questa punta diamante forma pesciolino non troppo non è troppo piccola questa punta e mi sbrigo mi sbrigo in questa maniera mettendo i giri la rotazione verso indietro reverse e faccio in questo modo mi sbrigo molto molto di più piuttosto che fare che giustamente è super corretto fare prima da un lato poi dall'altro invertendo i giri eccetera eccetera però è vero pure che ognuna di noi cerca il modo più veloce di fare le cose cercando di farle bene ma comunque più veloce ok eccomi qua sto andando a stringere il più che posso considerando che dopo devo andare a tirare sulla punta la struttura e continuare a limare comunque mi comincio a dare una piccola stretta non abbiamo neanche accorciato la la struttura perché appunto lei le ho spiegato benissimo che se le vuole andare a fare un po più strette mi deve concedere la lunghezza altrimenti non si può fa l'ha capito benissimo e ha detto va bene lasciamole un po più lunghe 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 allora preparo l'unghia naturale con la lima alla vecchia maniera e poi sto andando a togliere la polvere l'eccesso di polvere l'ho già tolto ma con lo spazzolino e il il cleaner in poche parole sto andando a togliere la la polvere in eccesso e deidratare l'unghia naturale quindi questo è il bonder su questa ragazza acchiappa qualsiasi cosa lei c'ha un'unghia proprio da paura tutte tutte le clienti dovrebbero essere così su di lei tiene qualsiasi cosa e quindi su di lei vado ad utilizzare il bonder non l'ultra bond non il primer acido eccetera eccetera va bene questo che sto usando invece la hd base nylon mando in lampada e cominciamo a ripristinare e ricostruire queste unghiette acrigel che sto utilizzando è il pink rose dei nuovi acrigel in barattolo di beauty space nails e quello che vedete è questo sono bellissimi questi acrigel inutile dirvelo ormai già lo sapete tutti ma se c'è qualcuno che ancora non lo sa andate a comprare questi acrigel perché sono veramente speciali il pennello che sto utilizzando anche è di bsn è il pennello oval sintetico numero 8 e il liquido che utilizzo è la poli shape sempre di bsn sappiamo benissimo che possiamo utilizzare tranquillamente il cleaner l'isopropilico l'alcol etilico possiamo utilizzare assolutamente tutti questi altri alcol ma continuo ad utilizzare la poli shape perché al suo interno c'è qualcosa che rende il pennello morbido che non fa morire il pennello velocemente e quindi morire nel senso che lo secca perché comunque isopropilico è un potentissimo sgrassatore sgrassante dei tratanti è potentissimo e chiaramente anche i pennelli ne risentono invece nella poli shape non lo so che cosa c'è ma si sente proprio al tatto che il pennello rimane morbido quindi questa è la motivazione per cui io utilizzo la poli shape quando effettivamente se mi seguite da tantissimo tempo io vi ho sempre detto che si poteva utilizzare il cleaner un cleaner non troppo diluito ma insomma va bene detto questo vado a fare i pollici li faccio sempre da soli li mando in lampada e poi mi dedico alle quattro dita quattro dita per volta come vedete una volta che ho finito di stendere il mio prodotto con la mini torcia do un flash un flashettino di luce soprattutto nella zona del giro cuticole dei valli perché mi piace bloccare adesso che queste torce sono diventate praticamente uno strumento indispensabile ce l'abbiamo tutte sicuramente almeno una torcia io ce n'ho anche quattro e con la torcia mi rendo conto che blocco un attimino la il prodotto lì nel giro cuticole e se anche volesse cominciare a camminare un pochino e andare sotto cuticola in questo modo non ci va quindi non è che la torcia la usiamo solamente per le dual la torcia è tanto utile per tutti i sistemi in poche parole quindi ho lasciato tutta questa parte della stesura del prodotto perché magari può interessare a qualcuno insomma a me piace vede io stessa mi guardo li riguardo i miei video ogni tanto e guardo quello che faccio come lo faccio e già che ci siamo un consiglio che vi do che ve lo dico sempre ve lo dirò sempre se avete la possibilità di registrarvi mentre state lavorando e poi ovviamente di riguardarvi durante i video che vi siete autoregistrate potete vedere eventuali errori che state facendo potete vedere quando perdete troppo tempo in che momento state perdendo troppo tempo e in questo modo aiutarvi voi stesse a capire se state facendo qualche errore detto questo mando in lampada ovviamente deve fare il giro grande di polimerizzazione e poi vado a limare la punta che sto utilizzando in questa fase invece è la media prima per smontare ho utilizzato la extra course adesso per fare questo utilizzo la media da qualche mese sto utilizzando la grana m per fare questo passaggio quando mi avete sempre visto usare la extra fine ovviamente anche questa la ho io ovviamente la extra fine anche io ce l'ho sempre quindi se la volete potete tranquillamente chiedermela però mi sono resa conto che utilizzare la m mi trovo meglio mi trovo meglio e utilizzata nel modo giusto non mi porta via tutto tanto prodotto perché la paura può essere quella quindi una volta fatto questo con la punta m con la punta conetta con la mia dorata conetta mi vado a sistemare il prodotto nei valli laterali e nel giro cuticole con la stessa conetta andiamo poi anche a pulire sotto l'unghia e a tirare su a consumare il prodotto in eccesso che qui ero fuori inquadratura quindi non l'ho messo ma ovviamente l'ho fatto specialmente in queste unghie che devo andare a ritirare su perché crescono un po' grifotiche una bella bafferata finale tolgo la polvere eccetera eccetera e poi vado a mettere un goccettino di bonder lo stesso bonder aderente che ho usato prima sull'unghia naturale lo vado a mettere sulla struttura mi crea adesione e mi uniforma la superficie dell'unghia allora ha visto le mie unghie della mano sinistra e ha detto ma quasi quasi le voglio anch'io quindi ora perdonatemi ma praticamente sono due video che vi faccio vedere la stessa cosa però questa parte l'ho lasciata a velocità normale non l'ho accelerata la clip per farvi vedere quanto effettivamente è molto molto veloce fare la baby color con la spugnetta mi sono ricreduta perché non lo so evidentemente non utilizzavo le spugnette giuste e mi rimanevano comunque tutti quei buchetti invece questa spugnetta qua che è bella compatta effettivamente funziona molto bene io prendo se fate caso piego la spugnetta con il mio dito indice fateci caso piego la spugnetta e raccolgo il colore con la parte più interna della spugnetta di modo che la parte più esterna essendo pulita essendo libera mi aiuta a sfumare appunto la parte che voglio essere sfumata guarda adesso piego vedi che piego piego la punta della spugnetta e raccolgo il colore con la parte un po più centrale e quindi fatto questo ovviamente come posso dire mi sono resa conto che non ci devi stare a pensare troppo non devi guardare troppo se è tutto bello preciso bello perfetto perché tutte le tante cose che vediamo noi loro non le vedono e quindi noi ci facciamo perlomeno io mi faccio anche troppi problemi e quindi ecco fatto questo la mando in in lampada nel frattempo faccio anche l'altra mano qui aggiusto insomma cerco di sfumare un po di più se sento che ne ho bisogno la mando in lampada nel frattempo faccio l'altra mano e ritorno un attimino ad intensificare solamente la punta così come ho fatto nel video dove vi ho fatto vedere le mie che le facevo e di nuovo ho lasciato queste parti questa clip a velocità normale perché effettivamente effettivamente è molto veloce piuttosto che fare anche il baby boomer in struttura eccetera eccetera certamente l'effetto finale del baby boomer baby colon in struttura è un pochino diverso però è vero pure che come dicevo prima dobbiamo trovare un compromesso tra la bellezza estetica finale del del prodotto e anche fare cose veloci e quindi sì devo dire che mi è piaciuto molto questo metodo va bene la rimando in lampada chiaramente a terminare la polimerizzazione e qui sto utilizzando anche lo stesso causato su di me il sigillante matt effetto uovo di quaglia no uovo rotto uovo di quaglia e quindi niente lo sistemo cerco di sistemare tutti questi scusate puntini che ci sono in questo in questo sigillante e la mando in lampada e poi tolgo la dispersione e questo è il risultato finale spero che vi sia piaciuto questo video che vi sia interessato un bacio grande grande venite a seguirmi ovunque e ciao